Il day after si è consumato tra attese, speranze tradite, calcoli estenuanti e giochi di partito. Nella campagna travolta dal ciclone a 5 stelle, 60 ai parlamentari grillini eletti, agli altri partiti sono rimaste le briciole. Forza Italia ha confermato buona parte degli uscenti, otto deputati, quattro senatori, mentre ha accusato un calo a Fratelli d'Italia che elegge un deputato e un senatore, colpa soprattutto dell'esploat anche in campagna della Lega di Salvini che ha mangiato al partito di Giorgio Meloni una buona fetta di consenso. Si lecca decisamente le ferite il Partito Democratico che porta a Roma una pattuglia risicatissima come mai avvenuto in passato, composta da appena sei deputati e tre senatori. In questa ridottissima pattuglia c'è entrato per il rotto della cuffia Piero De Luca ripescato a Caserta dopo la sconfitta subita nella sua roccaforte Salerno. Un risultato che se da una parte garantisce una rappresentanza del PD salernitano a Montecitorio non cancella l'onta della sconfitta, oggetto ora di una seria e approfondita analisi interna. Una base di ripartenza insomma dalla quale provare a ricostruire un consenso che anche nella città di Salerno si è praticamente liquefatto. Restano fuori invece Eva Avossa e Angelica Saggese costrette a subire le decisioni di Minniti e Pittella. Con Piero De Luca sugli scranni di Montecitorio siederà anche Federico Conte, uno dei due eletti in campagna di liberi e uguali. Tra i ripescati salernitani esulta Gigi Cascelo di Forza Italia che si ritrova a Roma grazie all'esplode della Ferraioli nel collegio uninominale di Agropoli. Tra gli alleati Fratelli d'Italia parla come detto decisamente salernitano con la conferma di Edmondo Cidielli a Montecitorio e la prima volta di Antonio Iannone a Palazzo Madama. Io propongo immediatamente l'istituzione di un'assessorata alle politiche giovanili e allo sport che vive un problema di spazi, di edilizia sportiva importantissima. Sono stati spesi 9 milioni di euro per avere le fondamenta del palazzetto dello sport.